Nasce il Comitato del Sottosuolo, accorperà tutte le associazioni che si dedicano alla valorizzazione del mondo sotterraneo napoletano e sarà guidato da padre Antonio Loffredo, direttore delle catacombe di Napoli. L'annuncio in un convegno alle catacombe di San Gennaro, in cui sono state illustrate proposte di sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale, storico, paesaggistico e naturalistico del territorio di Stella San Carlo all'Arena. Alla presenza del sindaco Luigi De Magistris, del presidente della municipalità Giuliana di Sarno, dell'assessore all'urbanistica Luigi De Falco e di tecnici, geologi, progettisti e vulcanologi. La ricchezza costituita dalle catacombe di San Gennaro, di San Gaudioso e di San Severo, oltre al cimitero delle Fontanelle e dagli ipogei greci dei Cristalini e di Via Antesecola, è di tale rilevanza universalmente riconosciuta da essere stata inserita anche nel patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Per la nascita del comitato, che accoglierà anche istituzioni e scuole, è stata scelta la data del 13 aprile, ovvero il giorno della traslazione delle spoglie di San Gennaro da Pozzuoli a Capodimonte. Era l'anno 431.